Non vi racconto cavolate, siamo sotto la mappa di Conton City Passo attraverso le cose! Ma è assurdo, passo attraverso le pareti! Ma salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Xenoverse 2 Oggi scopriremo dei nuovi bug del gioco che ci permetteranno di andare sotto Conton City Ebbene sì ragazzi, andremo ad esplorare cosa c'è sotto l'intera mappa del gioco Se volete altri video come questo, pollice in su adesso perché è qualcosa di davvero folle Negli ultimi giorni sono usciti diversi video su Assassin's Creed Odyssey Ma soprattutto è iniziata quella che potrebbe essere una serie sul gioco di My Hero Academia Mi raccomando ragazzi, recuperate quei video, ve li lascio in descrizione Date una possibilità non solo a Dragon Ball ma anche agli altri giochi e non me ne pentirete Quindi direi finalmente che possiamo iniziare Adesso capirete un po' cos'è che farò Andiamo nelle battaglie locali Mi raccomando, iscrivetevi ora al mio canale Attivate anche la campanella delle notifiche Così ragazzi siete sicuri di non perdervi nessuno dei miei prossimi video Considerando che domani arriva lo speciale di Halloween con Francesca Quindi una battaglia con lei E poi domenica, se tutto va come previsto, arriva Dragon Ball AF alle 14.30 Io direi di scegliere il nostro Joseph e prendendo un altro controller Andiamo a prendere un altro qualsiasi combattente Magari andiamo con Goku Super Saiyan Blue Qui come vedete abbiamo un bot di nuovi scenari per essere la battaglia locale Ed eccola qua ragazzi, Quantum City Andremo direttamente sotto la mappa per vedere un po' cosa c'è E soprattutto vi ricordo che qua abbiamo anche altri scenari Quindi sarà fondamentale vedere cosa accadrà anche sotto le mappe di questi scenari qui Quindi cosa accadrà sotto il torneo del potere Ragazzi è un grande mistero Anche perché poi abbiamo tanti altri scenari che possiamo vedere Partiamo con Quantum City E guardate questo video fino alla fine Perché credo non ve ne pentirete Ci siamo, parte la battaglia A noi non interessa combattere ragazzi Cioè quindi non siamo qui per fare una vera e propria sfida Noi siamo qua solo e semplicemente Per vedere cosa accadrà in determinate situazioni Vediamo un po' ragazzi, si parte Quindi inizia il countdown e ci siamo Ragazzi miei ci siamo Guardate cos'è successo Siamo ufficialmente sotto la mappa di Dragon Ball Xenoverse 2 Non vi racconto cavolate Siamo sotto la mappa di Quantum City Ed eccola qua ragazzi Che figata assurda Allora io vi faccio notare che al momento noi siamo all'interno della montagna Cioè guardate che figata E tutto ciò vi fa comprendere che sotto la mappa c'è il nulla Cioè ragazzi notate voi stessi Cioè ragazzi ci sono semplicemente le nuvole E si nota anche chiaramente Come gli sviluppatori non abbiano concluso Tutto quello che c'era attorno e sotto la mappa Io purtroppo devo vedere per forza Goku È perché il gioco è indirizzato su di lui In modo tale da colpirlo Ma spostandomi a destra e sinistra Potete notare tutto quello che c'è sotto In primo luogo Proprio dove sono io Ci sono, non so Credo siano delle finestre Che al tempo forse gli sviluppatori volevano fare Poi non hanno concluso Ma poi tutto intorno Possiamo vedere anche un po' le radici Forse degli alberi o in generale Ci sono tutte Come dire Tutte le strutture delle rocce E della montagna Che poi non sono state nemmeno concluse Da quest'altro lato Compaiono e scompaiono le cose Cioè guarda C'è la montagna qua che compare e scompare In base a come ci avviciniamo Quindi è una cosa davvero assurda E poi da quest'altro lato Addirittura c'è un'apertura Nella struttura lì Delle scale Comunque Di questa zona rialzata Che ci fa vedere i palazzi in lontananza Ragazzi Tutto ciò è una figata davvero assurda E com'è che mi sono accorto di queste cose? Giocando con Francesca Facendo i video con lei Che escono ogni sabato E abbiamo scelto questi scenari E ci siamo resi conto che Boom Comparivamo all'interno della roccia Quindi ragazzi Guardate un po' Ad un certo punto il personaggio A parte che va pure là sotto Vediamo Ah ci va qua sotto No ragazzi non ci credo Siamo ancora più sotto Vedete sto scoprendo tutto in live Perché ragazzi Non me ne ero reso conto nemmeno Guardate che figata Quello ragazzi È l'hab principale Quello lì proprio Oltre Goku Quindi c'è la statua Quella lì del patroller Quello lì più figo in assoluto È sotto Cioè non so Una sporgenza particolare Chissà di che si tratta Poi vabbè Per il resto ragazzi La zona sottostante È completamente Vuota Cioè ci sono solo Le nuvole Quindi in pratica ragazzi Conton City Si appoggia sul nulla Ed è stranissimo Effettivamente Perché Mi sarei aspettato Qualcosina in più Vediamo se riesco Magari A far spostare ulteriormente Il nemico Anche se il tempo Ragazzi Sta per finire Cioè ragazzi Guardate Si continua Ad andare oltre Ed è una figata Incredibile Ragazzi Il tutto È stato davvero Stranissimo Però poi ecco Quando si conclude La battaglia Ci fa ritornare Al di sopra Di Conton City Sono ritornato Alla selezione Del personaggio Perché riscelgo Joseph Con l'altro controller Vado a scegliere Un attimino Goku Perfetto E vediamo Quale altro scenario Potrebbe darci Delle nuove indicazioni O in generale Delle nuove cosucce Magari andiamo qua Toki Toki City Che ovviamente Proviene dal primo Dragon Ball Xenoverse Io gli altri scenari Ragazzi Non li ho provati prima Come quello precedente Proprio perché Ragazzuoli Voglio che tutto Accada con voi Ed eccolo qua Anche qua Ma che cos'è Oh che si muove È l'ingranaggio Di Conton City Ma aspetta È tutto normale O no Non lo so ragazzi Se provo a salire Passo attraverso Le cose Ma è assurdo Passo attraverso Le pareti È un fantasma Ragazzi Giuseppe è diventato Un fantasma Guarda Passo attraverso Tutto Ragazzi allora È una figata assurda Sta cosa Stranissimo Io non so ragazzi Se è normale Ma ovviamente No Cosa c'è all'interno Degli ingranaggi Cioè io all'interno Sono adesso Credo di sì Guarda Guarda Ragazzi Sta cosa di poter vedere Cosa c'è all'interno È una figata assurda Vediamo un po' Io provo a spostare Un attimino Goku Così vediamo in giro Cosa sta succedendo Ecco qua Lo spedisco via E al momento Sto notando Tutte le varie zone Di Cotton City Ma guarda come viene Spedito via Ragazzi Goku è scomparso Ragazzi Goku continua a cadere Ma dove va? Che cosa sta Dove stiamo andando? Ragazzi Goku continua a cadere E ci siamo Buggati Non ci credo Ma che sta succedendo? Ancora una volta Continuiamo a colpirlo E lo spediamo via Tanto la stamina Ce l'ha Dovrebbe mettersi in piedi E invece no Cade lo stesso Un po' è caduto Io se vado sempre più in alto La Clessidra Entro all'interno Della Clessidra Che poi c'è diversi colori Se vado giù Diventava Esatto Diventa giallo Se vado su C'è il colore Della Clessidra Quindi ragazzi Siamo proprio all'interno Ma questa è una cosa folle E posso continuare a salire in eterno Cioè ragazzi Quindi queste mappe Non hanno limiti Guardate come sto salendo Ma ragazzi Ma è assurdo Io temo infatti Che il personaggio Ad un certo punto Si vada a buggare Ma sono salito Così in alto Che guardate un po' Quasi L'intera Toki Toki Sì Ti giù Non si vede più Cioè vediamo un po' In basso a destra Quello che è Lo scenario Per iniziare il torneo Vi al momento In realtà ragazzi Credo che noi siamo Ancora sotto Toki Toki City Quindi ragazzi Siamo sempre sotto le mappe E infatti Guardate un po' Guardate un po' Dove siamo spawnati Adesso Siamo in quest'altra zona Goku però riprenditi Non scendere in eterno Vabbè ragazzi Goku scende Praticamente in eterno Noi però Vedete adesso Siamo Proprio Sul terreno E non mi fa andare oltre C'è proprio un impedimento Cioè la mappa In pratica finisce Però ragazzi Noi eravamo Sotto la mappa Di Toki Toki City E da lì Non potevamo sbloccarci Quindi da come notate Io posso andare Intorno a tutta la zona E vediamo anche Cosa c'è qua oltre Ma è assurdo Guarda guarda Ma sono anche arrivato A terra Mamma mia ragazzi Ma ste cose Mi fanno impazzire Vediamo Oh ci sono arrivato Quindi ragazzi C'era il muro Vediamo Vedete C'era il muro Ora c'è di nuovo Il muro Ma se mi faccio il giro Trovo il modo Di aggirare la situazione Esatto E arrivo qua Ragazzi È una figata assurda Ah no Qua il gioco si bugga Non mi fa camminare Ma perché Se vado di qua Prima mi faceva andare Eh ragazzi Adesso non più Quindi vedete C'è proprio un blocco Però vediamo Se riesco ad aggirarlo Magari c'è un buco Nel quale posso infilarmi Ma la vedo difficile Vedete Entra un po' Nella zona di Toki Toki Però Non mi fa andare oltre Ma a questo punto Ragazzi Vediamo anche un'altra mappa Dai Questa cosa È una figata Davvero assurda Ragazzi E pensate Con quante altre mappe Possiamo fare Una roba Del genere Io direi magari Di andare a scegliere Qualche altra mappa Che può essere sempre Toki Toki Questa volta È quella lì Della Time Machine Quindi forse È la zona principale Vediamo un po' Credo di sì Quindi Andiamo a scoprire Cosa c'è sempre Sotto questa mappa Che vi ricordo È essere Quella antecedente A A quella principale Che ora conosciamo Ovvero Conton City Perché poi tutto Si è originato Da lì Quindi anche stavolta Vado a spostare Un attimino Sto Goku E lo riporto Un po' in alto Vai così Come vedete Guardate ragazzi Guardate a destra Anzi Ora è alla mia sinistra Sto Goku Che va sempre a cadere Mannaggia Guardate a sinistra Ragazzi Guardate Come è fatto male Questo sfondo Questo ragazzi È stato messo così Cioè Non è in 3D Ma è solo un'immagine Che poi a un certo punto Scompare pure Perché tanto Quando giochi Questo scenario qui Non è che ci fai caso Più di tanto Guardate quindi Come è fatto maluccio Ma vediamo un po' Nella zona di destra Posso entrarci? No ragazzi Anche qua mi si blocca Però Da come vedete Posso andare In tutta la zona circostante Che è davvero vastissima Ragazzi Vi ricordate Dragon Ball Xenoverse 1 Posso appoggiarmi qua? No Non mi ci fa proprio Entrare oltre Cioè ragazzi Non posso andarci Vedete Sono impedito Non ricordo Se anche nella mappa originale Mancavano delle macchine Del tempo Poi qua ragazzi In pratica Abbiamo il Drago Sherron Nel quale possiamo entrare Ovviamente Non è reale Però È una riproduzione Mettiamola così Quindi ragazzi Goku E anche il nostro Carissimo Joseph Potranno andare Sul Drago Sherron Ma non mi fa andare oltre Quindi il personaggio Si blocca Proprio qui E di conseguenza Ragazzi Siamo fermi Peccato Davvero un gran peccato Andiamo alla selezione Del personaggio Però ragazzi Vi confesso Che tutto c'è davvero Stranissimo E magari Nei prossimi video Possiamo andare a vedere Altri scenari Possiamo andare a scoprire Cosa c'è all'interno Del Camis Lockout Quindi all'interno Del santuario E poi possiamo andare a vedere Cosa c'è anche all'interno Della navicella Di Freezer Magari Chi lo sa Riusciremo a scoprire Qualcosa Che gli sviluppatori Hanno inserito All'interno Di queste mappe Come segreti Noi al momento Non possiamo saperlo Perché io ragazzi Queste mappe Non le ho ancora scelte Per andarle a vedere insieme Però vi confesso Che credo Vedremo roba Molto molto figa In questi prossimi video Quindi ragazzi Mi raccomando Lasciate un like Se volete scoprire Cosa c'è all'interno Sotto O sopra Di queste altre mappe Vi ricordo Che in questi giorni Sono usciti i video Di Assassin's Creed Forse possiamo portare avanti La serie Sul gioco di Miro Academia Mi raccomando Guardate altri video E non solo Dragon Ball Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi ora Al mio canale Cliccando qui al centro Guardate altri video Cliccando qui a destra e sinistra Quindi Alla prossima Ciao